96.238 abitanti. E' questa la cifra aggiornata di residenti nel comune di Pesaro secondo la ricerca elaborata dall'ex preside del Bramante Genga Paolo Barchiesi e pubblicata nei giorni scorsi dal resto del Carlino. Un dato sulla popolazione che offre una anticipazione sulle prime cifre a chiusura di un 2020 profondamente segnato dalla pandemia e destinato a riformulare radicalmente alcuni di quei numeri che hanno caratterizzato l'ultimo annuario demografico pubblicato dal comune di Pesaro relativo all'anno 2019. Un anno in cui le Covid-19 era un termine ancora masticato da pochissimi esperti, mentre il 2020 è destinato a cambiare diversi dati sul comune a cominciare da quello sui matrimoni, che a Pesaro nel 2019 furono 267, cioè una cifra cresciuta negli ultimi 5 anni dopo un calo abbastanza costante. Di questi matrimoni erano invece crollati quelli con reto religioso scesi a 94. Il 2019 aveva anche registrato 167 divorzi. Un altro dato che rischia di subire uno scossone nel 2020 è quello relativo all'età media della popolazione cittadina dopo il fardello di lutti trascinato dalla pandemia. A fine 2019 Pesaro aveva infatti 7.000 persone di età compresa fra gli 80 e gli 89 anni e poco più di 1.500 persone dai 90 anni in su. Un'età media della popolazione cittadina che si attestava sui 47 anni. Un dato che invece non dovrebbe squilibrarsi è quello della distribuzione della popolazione fra quartieri. Secondo l'attuale geografia amministrativa, a fine 2019 il quartiere più popoloso della città era quello di Montegranaro-Muraglia con 13.018 abitanti. Secondo posto per l'agglomerato 5 torri Santa Veneranda con 10.951. Terzo il centro storico con 10.540. Centro e Montegranaro sono anche le due zone in cui si concentrano più cittadini stranieri con più di 1.000 in ciascun quartiere. In totale erano 7.300 cittadini stranieri residenti a Pesaro a fine 2019, ovvero il 7,7% dell'intera popolazione cittadina. La comunità straniera più presente a Pesaro è quella romena con 1.622 residenti, al secondo posto i 971 cittadini moldavi, al terzo i 641 ucraini.